Una nave Quanto costa 100 euro questo? 2009 Allora, l'Etna che in questo momento è coperta, tu vedi i numeretti che salgono, quella è la quota, via la distanza, io ti sto facendo salire, quindi torre biologica, l'Etna purtroppo è coperta, l'Università di Catania, Policlinico, il CUS, il Campetto Verde, il CUS, nel frattempo siamo quasi arrivati. Ma dove è? Non si vede, non si vede più. Un obiettivo è 100 metri, 100 metri, ora ruotiamo tutta Catania sotto, un obiettivo, un bell'obiettivo. Poi il sole che purtroppo non ci possiamo fare niente, il costone in fondo è Calentini, Lentini, Francofonte.